E tra le aziende che presentano nuovi prodotti a Clima House 2014 ci troviamo Eterno Ivica, sono in compagnia del direttore commerciale Alberto Cocco, di cosa si tratta? Stiamo iniziando una nuova avventura, quella dell'acustica, siamo entrati in questo settore dal luglio del 2013, ci siamo sempre occupati di tutt'altro, abbiamo sempre fatto degli accessori per l'edilizia in plastica, però è una sfida che ci motiva e la fiera di Bolzano era una buona occasione per iniziare a raccontare quello che di nuovo vogliamo fare. Abbiamo creato uno stand molto particolare, è un bar dove il chiasso generato dalle persone non va comunque a ostacolare quello che è il sonno di un bambino che è riproposto sopra, ci piace, ci piace raccontare acustica, ci piace fare acustica, speriamo che questa avventura ci dia anche dei risultati positivi. E invece nella parte fuori dello stand raccontate e presentate quello che è il vostro prodotto più di sempre. Esattamente, nella parte esterna noi abbiamo comunque voluto confermare ancora una volta che siamo i leader indiscussi sia come numero sia come qualità degli ormai famosi supporti per le pavimentazioni sopralevate da esterno. È un materiale che sono dei prodotti che ci stanno dando tante soddisfazioni ormai da più di dieci anni e vogliamo ancora continuare a proporli con forza. Saremo presenti anche in altre fiere, la prossima sarà appunto la fiera di Parma e comunque anche nelle fiere più blasonate tipo Cersai e Marmomac dove daremo ampio spazio solo ed esclusivamente ai sistemi sopralevati da esterno e quindi ai nostri supporti.